La figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, ha 22 anni di età e ha raccontato gli ostacoli che ha dovuto superare negli ultimi anni, dopo la morte dell'amato padre. In una serie realizzata al fidanzato e disponibile su Facebook, si intitola Unfiltered, Paris Jackson e Gabrielle Glenn, la famosa cantante e attrice ha fatto delle rivelazioni piuttosto inquietanti. Infatti pensate che avrebbe rivelato di aver tentato il suicidio quando, durante la stessa seconda puntata della serie, trasmessa il 7 luglio 2020. Dato recente, pensate che avrebbe ammesso era dipendente dal cibo, ho acquistato molto peso, poi un cugino mi ha chiamato grassa, ho pensato va bene, non posso andare avanti, ed è così che sono caduta nell'automutilazione, tuttavia la figlia di Michael ha pensato che sarebbe sopravvissuta perché era sicura di avere il coltello dalla parte del manico. Sapevo quanto stavo andando in profondità, ha detto la ragazza. Come ha spiegato è stato il rilascio di dopamina, che ha rafforzato il suo desiderio di autoresionismo. Chiamato anche ormone della felicità, la dopamina regala tante energie, ma anche molta aggressività, ed è stimolata da diversi fattori come il consumo di droga, il cibo o lo sport. Insomma, la ragazza ammette di aver provato a uccidersi più e più volte. Probabilmente anche questa voglia di farsi fuori è dovuta e derivata dalla perdita dell'amato padre, volontano 2009, Michael Jackson, la famosa star del popolo. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video. Iscrivetevi, commentate, un saludo a Leonardo Igariano.